Sono Paolo Cosarelli, sono Stefania Catastini, LDA, IMDA, si occupa da circa 20 anni di architettura su il territorio e oltre il territorio. La progettazione non è mai un atto singolo, il gruppo è fondamentale. Fare e progettare l'architettura è un'azione che ha bisogno di vari punti di vista per poi fare una sintesi. Abbiamo affrontato un tema importante, quello del cambiamento climatico. L'ipotesi è che l'architettura possa essere elemento rigenerante di luoghi di abitare. A noi ci interessa che quell'architettura sia portatrice non di degrado, ma di un buon vivere. Il rapporto tra architettura e urbanistica deve essere un rapporto molto più simbiotico, non solo discendente. Fare architettura è una palestra, non può prescindere dall'aspetto emozionale. Per me il consiglio principe di tutto è questo, cioè fare le cose con il passo, su un passione.